Novi video di Fortnite. Oggi faremo una partita, cioè faremo delle partite in una partita dove faremo cose normali, visto molto speciali i contenuti che porto. Cerchiamo di vedere se dobbiamo rimanere nella stessa tutta. Dobbiamo rimanere per tutta la partita. Qual è la parte di lago l'anguido? Dai, ci vuole un piccolo tratto, quindi è parte di lago l'anguido. Dobbiamo rimanere il più tempo possibile, invece lì non ci possiamo andare. A malapena andare sotto il fiume. A malapena. Ok. Apri. Casse. Piedere la strada. Pompa. Andiamo sotto sperando che trovi di trovare qualcosa di utile. NICE. Guarda una cassa bella, guarda che ci ha. Il pompa. Mondo male. Questo lo prendiamo, questo lo mettiamo qua più in fondo. Questo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua. è un fiume. Un vambacucino. Un fiume. Un fiume. Un fiume. Un fiume. Un fiume. Ok. ok ragazzi per fortuna che non mi aveva colpito credo che non sia un player ovviamente però era forte io ci vado dove sta sto player? ho paura ho paura ok 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 beh grazie parlo tutto voi che sono molte belle sono Ok ok questo c'è il pomperi mitici e c'è il pomperi mitici e c'è il pomperi mitici, perfetto io ti dico per forza bene un medikit vado a fare nella mia base bellissima non la facciamo la challenge l'ho aumentata in un momento faremo che dobbiamo rimanere qui quando di soccasiverci medikit medikit un po' 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 Anche il posteriore Entrano la tana Dopo riprendiamo il shielding Allora abbiamo due armi viola e due armi mitiche e tre scigli E' un luce bello amico vero? Andiamo amico in zona Andiamo in zona amico Andiamo saltiamo Anche se l'h dobbiamo vincere la partita Credo che non sia un posto molto ideale Per vincere Però l'amico mio Ancora Però l'amico mio doveva andare qui Le linee avevo Sotto Amico mio sto affianco a me Va bene Allora questo Che cosa ne qualcuno Va bene No non ci sono più È vero perché ho sentito da qualcuno Che a parte che qua è la casa distrutta Poi ho sentito da qualcuno Che adesso le casse vanno in posti diversi Perché infatti una volta le ho trovate da una parte Una cassa Un'altra da un'altra Trovate diversamente Amico Il mio amico È vero Il mio amico Vai amico un po' di colpito un grande ucciso un player un player importante ah eccolo c'est un player un player unrienne un player un player un player per l'ambella l'ambella l'ho fatto capire ma c'è chinato? ah ma da dietro ok il decimo mi piace questa partita che cosa vi posso dire? lasciate like iscrivetevi al canale per il prossimo video bye